Creare un momento di aggregazione tra diverse fasce di età attraverso attività ludiche e sportive. Si fonde su questi valori di integrazione sociale la nuova proposta fatta da Iesdini, la scuola privata di recupero per l'ottenimento del diploma con sede a Pesaro, che per fare ciò intende riqualificare un luogo che da tempo necessita di un recupero. Il progetto Iesdini Academy con l'iniziativa Scuola e Sport ritiene fondamentale la riattivazione di un'area sportiva come quella in via Luca della Robbia per dare la possibilità ai genitori a partire dal 6 marzo di lasciare i propri figli dalle 15 alle 18 per lo svolgimento di attività di dopo scuola. Dal calcio al basket passando per la pallavolo, un coinvolgimento a 360 gradi con l'interessamento anche delle realtà sportive più importanti del territorio come WL e Vispesaro. Nel periodo estivo poi si proseguirà con i camp in cui saranno chiamati in causa anche diversi personaggi di sport a livello nazionale come Carolina Moraci, allenatrice di calcio femminile, e Francesco Montervino, ex calciatore di Serie A con la maglia del Napoli. Unione tra il territorio, tra i cittadini e la parte appunto del comune e unione anche per quanto riguarda la Vispesaro e la WL perché in questo progetto dove andremo a creare dei camp estivi andremo a creare un progetto che si chiama Sport e Scuola dove appunto sarà unita la parte di formazione con la parte sportiva. Nel futuro ci sarà la possibilità di dare questo spazio anche alle scuole sia statali che private quindi unione anche tra giovani e anziani perché poi sarà un posto, un luogo dove per me sarà fondamentale unire tutti i cittadini di Pesaro quindi nessun conflitto con società sportive sia di basket che di calcio, sarà unione, non voglio andare contro a tante situazioni quindi unione. Come anticipava Simone sono i camp con protagonisti veri campioni, campioni del passato e del presente che potranno quindi insegnare quelle che sono le basi proprio del gioco del basket piuttosto che del calcio e del volley interagire con i bambini, insegnare loro che lo sport è in primis rispetto delle regole, interazione, inclusione e quindi avremo modo anche poi di poter procedere con progetti che non siano poi soltanto in ambito sportivo ma abbraceremo anche associazioni relative a quello che è l'ambito della legalità.